Oltre a questi eventi, due papi, abbiamo visto purtroppo anche degli accadimenti che pensavamo fossero storie vecchie dell'altro millennio. Abbiamo visto nel nome di una religione, nel nome di Dio, tagliare le teste. Ora domani può darsi, io spero, che assisteremo ad un altro evento molto interessante. Domani, forse, nelle chiese cattoliche si recheranno anche i musulmani a pregare insieme ai cattolici. Avvengono queste cose e noi siamo qui con le nostre miserie, le miserie che sono iniziate 17 anni fa. Perché prima abbiamo avuto un sindaco che era criticato per avere le tasche a chiocciola, per pensare non una, ma due, ma dieci volte prima di sganciare una lira. Poi sono arrivati quelli bravi, quelli che hanno speso quello che non avevano, quelli che non hanno incassato ciò che dovevano incassare, quelli che hanno messo in campo una finanza creativa. Ma non solo quello, ma non solo quello. Io vedo qui ci sono tante mamme, che magari avranno dei bambini di due anni, che vanno agli asili nido. Io vorrei sapere perché il comune di Frascati spende nei suoi due asili nido 10.000 euro l'anno per ogni bambino. Quando le mamme che stanno qui e che mandano i figli ad un asilo privato, sanno che pagano dalle 400 alle 500 euro al mese il comune di Frascati, ad una cooperativa che viene da Reggio Emilia, probabilmente democristiana, ogni mese versa 100.000 euro per 120 bambini. Parlo dei bambini che frequentano l'asilo nido della Banca d'Italia e di quelli che frequentano l'asilo nido a Pietra Porsia. 120 bambini che se andassero ad un asilo nido privato costerebbero 5.000-6.000 euro l'anno. Il comune di Frascati ne sborsa 1.200.000 euro l'anno. L'ultima gara è stata assegnata il 17 luglio 2015. Poi c'è la storia dei locali sotto via Regina e Margherita, quelli che io chiamo le magnerie del Valadier. 6.300.000 euro documenti in mio possesso, poi forse c'è qualcosa che sfugge. Ultimamente qualcuno è andato a fare un corso di sommelier e voi sapete che quest'anno a Frascati non è che abbia provvuto che ci sia stata granchia d'acqua, no? E pioveva dentro i locali, pioveva dentro i locali. Qualcun altro mi dice che se io andassi a visitare queste magnerie del Valadier che sono praticamente stanno lì e ogni tanto fanno un evento per far prendere aria ai locali e dice che osserva un attimo il pavimento, le tavole, le cose perché si stanno staccando dei pezzi. Io dovevo andare a visitare quei locali, il sindaco aveva promesso quando eravamo in luna di miele i primi 100 giorni che mi ci avrebbe portato, ma non mi ci ha portato. Poi c'è qualche altro che verrà fuori nei prossimi giorni perché vedete io spero che il sindaco che è qui in passeggiata e mi ascolta, spero che il sindaco voglia approfittare della mia disponibilità per far conoscere alla cittadinanza certi particolari. Poi se il sindaco non lo fa ci sarà qualcuno che lo fa, perché io di numeri non ci capisco però ho preso un esperto che in tre quarti d'ora mi ha tirato fuori certe storie strane. E allora a quel punto io voglio che si sappia che sarà un problema per tanti, perché io capisco uno come me che, scusate se mi ripeto, non ci capisce dei numeri che possa fare una cappellata. Ma quando io vedo revisori dei conti, presidenti, consiglio di amministrazione che fanno qualcosa che nemmeno alla prima ora del primo giorno, del primo anno di uno studente di regioneria si fanno queste castronerie e io non lo so come ci mettiamo, poi sta fino quel nome che protegge i castelli romani dalla magistratura, sta fino quel nome a lavorare. e perché qui, poi alla fine, se andiamo alla Ciccia, la scuola si è abbattuta su un marino. Io dissi perché si vede che è Palozzi col centro-sinistra, dice no ma Palozzi è del centro-destra. Ah, allora ho capito, non faceva parte della combriccola che è protetta dal nome. Ecco, io questo ve lo volevo preannunciare perché ripeto, voglio dare la possibilità al sindaco che vuole far sapere alla cittadinanza come stanno le cose, di rispondere a qualche interrogativo che io potrei porre, poi vedremo sul mio profilo Facebook, sul mio blog, usciranno i pezzi di carta. Buona serata e buona domenica.